E' una nuova bufera giudiziaria quella che si è abbattuta questa mattina sul capoluogo. Una nuova inchiesta, ancora una volta per presunte irregolarità nella ricostruzione post-sisma. Nuovi arresti che riguardano due persone in vista della città. Si tratta dell'ex assessore della Giunta Cialente, Roberto Riga, e Massimo Mancini, costruttore e vicepresidente dell'Aquila Calcio. Per entrambi sono scattati i domiciliari, ordinati dal GIP Giuseppe Romano Gargarella. Al termine dell'inchiesta, coordinata dal procuratore capo della Repubblica Fausto Cardella e dal PM David Mancini. Le indagini, portate avanti dai finanzieri del nucleo tributario, coinvolge anche funzionari ed amministratori pubblici. Tra gli altri reati contestati c'è anche quello di corruzione, mentre le misure cautelari, stando a quanto appreso, sarebbero in tutto quattro. Le fiamme gialle hanno effettuato una serie di accessi e perquisizioni nell'ambito del nuovo filone di inchiesta che, stando a quanto appreso, riguarderebbe i lavori di ristrutturazione dell'oratorio Don Bosco, gravemente danneggiato a seguito del terremoto del 2009. Agli inizi dello scorso anno, Riga, che aveva anche la delega all'urbanistica, aveva rassegnato le dimissioni a seguito dell'inchiesta ad Autodesk, sempre relativa ad appalti per la ricostruzione post-sisma. La scorsa estate, invece, il Tribunale delle Esame di Roma ha revocato gli arresti domiciliari per il vicepresidente dell'Aquila Calcio, Massimo Mancini. Mancini era stato arrestato, insieme ad altri due imprenditori, il 13 luglio con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'inchiesta riguardante i lavori di ampliamento della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, tutti fatti comunque risalenti al 2004. Con i connotati della vicenda giudiziaria, che inevitabilmente verranno chiariti nelle prossime ore, resta il fatto di un nuovo colpo per la città, che faticosamente cerca di rialzarsi a ormai sei anni e mezzo dal sisma.